Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la seconda maglia di una delle squadre più forti d'Europa, del Bayern Monaco, in edizione Player. L'edizione fan l'avevamo già vista e trovate qui in alto la recensione. L'edizione fan l'avevamo già vista e trovate. Questa maglia è molto bella, come detto l'avevo già vista in versione fan, ho voluto riprenderla perché mi piace molto, mi piace molto. Nella mia classifica prende 4 stelle, bellissimi i colori, il contrasto che crea questo rosso e questo grigio scuro e molto belli i materiali. Il costo lo vedete qui sopra, parla da solo, non c'è da aggiungere altro. Andate a vedere sul sito quali offerte vi attendono. In descrizione, qua sotto, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare per comprare quello che volete. Ora vi lascio la parte finale nella quale vedrete le misure. Nel frattempo lasciateci un grosso like e iscrivetevi al canale. È l'unico modo che avete per farci crescere ed avere sempre nuove recensioni. Alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.